Buongiorno a tutti ed eccoci qui in un video su Pavone Ingrifatti Oggi vi mostrerò i peggiori giochi mai creati dall'umanità Iniziamo subito col primo Jibba Jabber Allora, prima di tutto, è una merda, cioè, non c'è dubbio Non so quale disegnatore abbia mai avuto un'idea del genere Penso che abbia avuto dei problemi mentali molto grossi O era ubriaco e aveva perso una scommessa e doveva creare il peggior gioco del mondo Poi inoltre pure il suo capo era ancora più ubriaco e quindi l'ha fatto produrre E è uscito questa cosa Oltre al fatto che ha dei peli pubici verdi in testa, tipo i peli pubici di Hulk Fa anche un rumore molto fastidioso questo giocattolo Perché se lo scuoti fa questo rumore Cioè, il divertimento, non so in cosa consiste Continuare a muovere sta merda per due ore E sentire un rumore fastidioso Questo è il gioco, che bisogna pagare Non è che ti pagano loro, paghi tu L'onnipotente Dio action figure Secondo me non ci sarebbe nulla di male se ci fosse un pupazzo, un giocattolino su Dio Va benissimo Il problema più grande è che all'interno della scatola Troverete pure un mitragliatore E questo non capisco Cosa, perché Perché dovrebbe aiutare Dio un mitragliatore Non ne ha bisogno Dio È Dio, è onnipotente Ci si chiama anche proprio l'onnipotente Dio Quindi, cioè, lo fanno capire chiaramente Che non dovrebbe aver bisogno di un cacchio di mitragliatore Però la sua giacca è davvero ficca, eh La vorrei io avere quella giacca da fico Dora Aquapet Beh, eh È un pene Cioè, perché fare i giri di parole? È un pene È chiaramente un giocattolo a forma di pene Di per sé questo gioco dovrebbe assomigliare a questo qua È una noia immorale comunque, eh Anche se fatto a forma non di pene Perché tu registri la tua voce O una canzone, quel che è E lui la riproduce Punto Dentro l'acqua, inoltre Non so perché Però, perché dovrebbero farlo anche a forma di pene? Non se ne sono accorti Boh, non lo so Forse mi sbaglio io E io vedo un pene Ma magari voi vedete un normalissimo giocattolo, eh Ditemelo voi, eh La riproduzione del controllo di sicurezza della Playmobil La Playmobil mi è sempre piaciuta da piccola, eh Preferivo il Lego Perché potevi fare più cose Perché la Playmobil appunto Potevi soltanto comprare un determinato Eh, giocattolo Con un determinato contesto Tema E con il Lego potevi modificarlo A cazzo di cane E la Playmobil cosa ha voluto fare? Ha voluto fare una rappresentazione Una riproduzione Del classico gate Prima del gate C'è questo Il controllo di sicurezza delle valigie Io non vedo Quale bambino Possa trovare divertente questa roba Ma fa l'aereo Tutto l'aeroporto Ma porca troi Ma solo questo Poi quanto costerà Costerà anche abbastanza Perché la Playmobil Fa anche pagare tanto Questi giochi di merda Madonna santa Tre personaggi fatti male Una valigia E una specie di incoso Per radar lì Per le valigie Ehm Ma che schifo Ah Se siete interessati Su Amazon Lo trovate eh Potete acquistarlo Per solo 270 euro O sbrigatevi Che ne è rimasto soltanto uno Quindi oh Vi lascio il link in descrizione eh Muovetevi Hurry baby Ehm Non so Quale mostro Abbia partorito Questa idea Di fare Un bambino peloso Da poter Rasare Però Vabbè Magari hanno fatto Un sondaggio E i bambini Dicono Sì sì Vorrei rasare Il bambino Sì che bello Che bello Ok Però non credo Che un bambino Possa mai immaginare Di volere una roba del genere Perché un neonato Dovrebbe avere I peli Va bene sotto l'ascelle Però guardate come Vanno piano piano giù Fino Al pube Quindi anche i peli Pubici Pieno di peli Pieno Complemento pieno Ma che bambino è Ma neanche Ha 50 anni Tutti quei peli Se non tirati mai E poi Colpo di classe Proprio Raffinatissimo I peli Sulle Caviglie Che nessuno ha Ma nessuno ha Così tanti poi Ma chi ce li ha Così tanti Solo Sulle caviglie Madonna Poi lasciamo stare Il colore dei cappelli Che hanno scelto Ma vabbè Visto il resto Il dito luminoso Di E.T. Come idea Ci sta Ha avuto molto successo E.T. Quindi perché Non riprodurre Il suo famoso dito Che fa E.T. Cosa E che si illumina pure Se lo tocchi Ficata No Per Molti ragazzini Soprattutto di quella generazione Problema che È chiaramente A forma di dildo Non anche qui Non facciamo giri di parole È un dildo Un vibratore Secondo me La storia è andata così I produttori Volevano inizialmente Fare effettivamente Un dildo Però poi Probabilmente La produzione è andata male È venuto deformato Il prodotto Quindi con queste Righe Queste Specie di vene Schifose Questo dito vecchio Questo vibratore vecchio Anzi E quindi hanno deciso Ah Perché non Farò diventare Un dito di un alieno E Non ha avuto successo comunque Quindi Lasciamo perdere La scopa vibrante Di Harry Potter Penso che i produttori Siano gli stessi Del dito di Et Sicuro Perché Quale pazzo Volerebbe inserirsi Tra le gambe Una scopa vibrante Magari alcune Signore Signorine Sì Però In generale Non fa piacere a nessuno Non penso Forse a voi si A me no Il martello Gonfiabile Di Wolverine Come idea Non è male Perché effettivamente Wolverine è Il personaggio Preferito Da tutti Tra gli X-Men O comunque È il mio preferito Quindi da bambino Lo avrei acquisito Volentieri Un martello Gonfiabile Di Wolverine Anche se non c'entra Un beato Cazzo Con il martello Wolverine Però vabbè Il problema È che Il buco Dove gonfiare Questo materasso Questo martello Si trova Proprio Sopra Il pisello Di Wolverine Il pisello Proprio pisello E secondo me È andata così Hanno prodotto Il martello Poi però Magari Hanno esternizzato La produzione Del buchino Per gonfiare Quindi L'hanno mandato In un'altra Industria E Sono due ipotesi O sono dei fili Di puttana E quindi L'hanno messo apposta Lì Tra le gambe Di Wolverine Il buco O se no Non sapendo bene Cos'era il prodotto L'hanno messo In un punto casuale In alto Dove solitamente Si mette Questo buco Ed è andata così È sfiga pazzesca Però Però Potete anche Tenerlo d'occhio Eh Vabbè La sella Del papà Chi non ha mai fatto Da piccolo Cavallino Con il proprio padre Ci si divertiva No? Ci si mettiva sopra La sua schiena E lui faceva Cavallino 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 E saltavi Simpatico E alcuni Ha avuto anche La brillante Possiamo dire Brillante idea Di costruire Una vera sella Così da fare Il vero Cavallino Il problema È che per me Questo oggetto Potrebbe avere Molto ma molto Successo Se messo In un sexy shop Non so Se venuto per bambini Potrebbe avere Lo stesso Successo Secondo me no Il primo bambino Del bambino Ripeto Il primo bambino Del bambino Analizziamo bene Questa immagine Allora In alto Possiamo vedere Un titolo Real pregnancy action Cioè Una vera azione Di Gravidanza Detta proprio La cazzo di cane In italiano Inoltre In basso a destra Vediamo anche Il bambino Del bambino È incinta Pure lui Pure lui è incinta Il bambino Del bambino È incinta Pure lui Quindi è tipo Una matriosca Fatta a forma Di bambino Possiamo dire No È una roba Oh mio dio Ah Chi è il mo È un mostro È un mostro Che deve stare in carcere Per tutta la vita È una È una bestia Chi ha creato Una roba del genere Oh mio dio Via via Non voglio più vederla Questi erano tutti i giocattoli Per oggi Se ne volete altri Scrivetelo nei commenti O mettete mi piace O se volete altre classifiche Sempre scrivetelo nei commenti E ci vediamo quindi Per un prossimo episodio Sempre qua Sui bamboni grifatti Ciao a tutti Ciao a tutti